Grazie per il costante supporto Grazie per la visione 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 Grazie a tutti Grazie per la visione 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 Grazie a tutti Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie per la visione Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti. E così, la mia stampante 3D autonoma può gestire la stampa chirale. Ammesso che funzioni, l'unità BioEvo dovrebbe permettermi di replicare tutti gli oggetti archiviati. Possiamo ricostruire l'America un pezzo alla volta. Nel frattempo posso usare la rete per vedere cosa succede nelle città, rilevare l'attività di muli e terroristi. È come se mi avessi portato il mondo intero in quel pacchetto. Grazie, Sam. Facciamo ancora affari insieme. Oh, sì. Ho qualcosa che vorrei farti provare. Un'unità usiliaria che ho sviluppato io stesso. Funziona perfettamente nelle simulazioni, ma ho bisogno che qualcuno la provi sul campo. E se dovesse anche aiutarti, tanto meglio. Sam, gli esoscheletri si collegano alle gambe e migliorano le tue capacità fisiche. Quello è un eso da carico progettato per rafforzare le tue articolazioni. Indossare un eso ti fornirà sostegno aggiuntivo, ma puoi anche sovralimentarlo per massimizzarne le capacità. Provalo, facci un giro. Non rimarrai del uso. Perchè? Le temps soltar per rafforzare le tue articolo. Oh. Attraverto. L'efforzare! Agrazie. Grazie di cuore. Torna presto. Ben fatto. Nuovo ordine disponibile. Ancedi al terminale delle forse. Bene. La stazione secondaria è pronta. Ne mancano due. Grazie. Ancora bravo. Limite alle armi revocato. Grazie. 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Hai tutta la mia gratitudine Vediamo questo pacchetto Wow, fantastico Lavoro eccellente, grazie Grazie a tutti Ah, quindi sei qui per conto della Fragile Express Dimmi che non stai più con i terroristi, ti prego Quando Fragile, la figlia del fondatore, ha iniziato ad associarsi ad altri corrieri La situazione si è fatta pericolosa Si dice che abbia provocato l'esplosione a Middle North City E c'è una parte di me che ci crede Ovviamente potrebbe anche essere solo un'altra delle loro vittime Stai collegando la rete chirale? Un contratto con la Bridges non è un problema, ma non intendo unirmi all'EUCA Se ti va bene, se ti va bene, fai pure Forse Fragile te l'ha già detto Ma chi non vuole far parte dell'EUCA Può sempre firmare un contratto con la Bridges per entrare nella rete Potranno usare i nostri servizi di consegna e altre infrastrutture chirali di base In modo simile ai nostri membri Allo stesso modo, tu potrai usare le loro stampanti chirali per reintegrare le tue propiste Tuttavia non sono obbligati a condividere i loro dati con noi Perciò non aspettarti che ti passino informazioni o nuove tecnologie In un mondo perfetto tutti farebbero parte dell'EUCA Ma non essendo possibile, vogliamo che possano almeno far parte della rete Possono sempre cambiare idea in fin dei conti Il Cupid si interfaccia in modo diverso con il terminale a seconda del tipo di contratto Connetti il Cupid per confermare Quell'azienda è troppo grande In tempi come questi dovremmo rimanere tutti uniti e compatti E questo vale anche per i Corrieri Altrimenti finiremo per ripetere gli stessi errori Repubbliche, federazioni, coalizioni, stati Collegare tanta gente diversa tra loro porta soltanto guai Scusami, era da un po' che non parlavo con qualcuno Buon viaggio Allora ci vediamo Ben fatto Nuovo ordine disponibile Accedi al terminale delle consegne per ulteriori informazioni Ben fatto, Sam Abbiamo integrato due stazioni secondarie nella rete virale Ne manca solo una Limite alle armi revocate Allora ci vediamo 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Grazie a tutti. Devi di riprenderti. Chiudi gli occhi. Va bene, è tutto a posto. Chiudi gli occhi. 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 Grazie. 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 No, preferisco tenerla. Grazie. 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 No, preferisco tenerla. Grazie. 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 Cosa? Stai scherzando? Sei davvero andato in quell'inferno? Non sai che cosa vuol dire per me. Quanti ricordi in questi vecchi attrezzi. Sono cose che non si ricreano con una stampante chirale. Pensavo di averti dato una missione impossibile. Oh, sì, ora ci siamo. Aspetta di vedere che armi ci farò con questi. Sam Bridges, sei incredibile. Grazie. A dirla tutta, Fogile e i suoi non mi hanno fatto mai niente di male. Anzi, sono in debito con loro. Ma se ora sono in combutta con Higgs, significa che sono come lui, no? Sembra quasi che questi cazzo di terroristi si stiano riunendo come una grande famiglia felice. Forse è ora di fare lo stesso. Magari per noi c'è speranza. Se ci sono persone come te nelle UCA, più siamo meglio è, vero? Con in più una nuova America. Collegami alla rete chirale. Collegami alla rete chirale. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Alla fine sono fatti loro. Se può farti comodo, prendilo. Uno Sparabolas, eh? Può essere molto utile. Puoi usarlo per bloccare bersagli umani senza doverli uccidere. Ma se scambi quei cavi con i fili ricavati dal tuo sangue, funzionerà anche sulle CIA. Coraggio. Provala pure. Tu hai fatto la tua parte. Ora devo fare la mia. Ben fatto. Nuovo ordine disponibile. Questa è la tua parte. Questa è la tua parte. Questa è la tua parte. Segnacarico. Grazie per il costante supporto. Grazie per il tuo contributo.